Giovedì 25 aprile puntuali alle 7.30 Buongiorno e buona festa della liberazione, ben ritrovati con la rassegna stampa di 696 TV, insieme andiamo a leggere le notizie che trovate nei quotidiani in edicola quest'oggi prima della parte finale dedicata al web con ampio spazio al nostro portale 8pagine.it. Con l'aiuto in regia di Aldo Fenizia iniziamo a sfogliare i quotidiani cartacei e iniziamo come di consueto dalla prima pagina del quotidiano Il Roma, una prima pagina tristemente particolare perché il titolo è relativo a questo episodio che si è verificato nella redazione di Il Roma, ride in redazione. Il Giallo, stessa azione dieci giorni fa in un altro giornale napoletano, la sede del nostro quotidiano, scrivono i colleghi di Il Roma, messa a soquadro nella notte. Cercavano qualcosa, non hanno rubato niente e hanno rinchiuso a chiave. Delle fotografie che vanno a documentare da sinistra verso destra innanzitutto i rilievi della scientifica in redazione, poi una delle stanze vandalizzate e due dei tre banditi inquadrati dalla telecamera di sicurezza. Li vediamo qui, ieri abbiamo anche ascoltato nel corso del nostro Tg le parole del direttore Sasso che ci ha raccontato tutto ciò che è accaduto, sbalordito, sorpreso e spiazzato come tutti i colleghi del Roma. Poi in taglio basso altri temi dopo l'apertura dedicata al ride nella redazione del Roma, l'opinione di Gerardo Mazziotti il 25 aprile, ora basta, è una festa da abolire e poi lettera al direttore il lungo ponte pasquale dei nostri governanti a firma di Franco Bianco a pagina 39. Ancora spazio alla sanità con il caso Alloretto Mare, il marito della donna, vogliamo chiarezza e poi scherillo, indagini archiviate, vittime innocente, scagionati i boss. Dal comune di Torre del Greco, Vincenzo Langella, operaio della Mobi, muore schiacciato nel porto di Livorno. Questa è la prima pagina del Roma, andiamo all'interno con la speculare di pagina 2 e 3. E allora, il giallo, stanze messe a soquadro ma la gang non porta via nulla, hanno agito su commissione. Assalto al quotidiano Roma, redazione devastata nella notte, ride in due tempi, una telecamera inquadra l'ingresso dei tre banditi. E ovviamente sono state tantissime le reazioni suscitate da questo ride, soprattutto le reazioni di solidarietà ma anche volte a invocare che le indagini facciano chiarezza. De Luca e De Magistris hanno definito questo atto come grave, per l'appunto invitando a fare chiarezza. Il governatore si colpisce la democrazia e il sindaco si indaghi vicinanza del presidente del Consiglio regionale, D'Amelio. E ancora di spalla, pagina 2, andiamo a leggere quest'altro approfondimento, anche lì tutto sottosopra ma nessun ammanco. Soltanto dieci giorni fa un analogo episodio nella serie di Il Denaro. Ancora a scavalco tra le pagine 2 e 3 la solidarietà, un'anime vicinanza del mondo politico, sindacale e associativo al quotidiano, fare piena luce su un episodio che destra preoccupazione, un gesto vile e un attacco alla libertà di informazione. Va a riassumere tutti questi attestati di solidarietà nei confronti del quotidiano il Roma. E poi di spalla ancora gli ordini nazionale e campano, FNSI, su GC e Corecom, un episodio inquietante, ma nessuno intimidirà chi lavora con sacrificio. E ancora andiamo avanti dopo aver visto le pagine 2 e 3 del quotidiano il Roma, dedicando la nostra rassegna a questo ride che si è consumato. Esprimiamo ovviamente ancora una volta la solidarietà ai nostri colleghi. Ci spostiamo sulla prima pagina della Repubblica nella sua edizione nazionale. E allora, in apertura, la vediamo la fotografia che è esaustiva. Oggi 25 aprile, Mattarella, la storia non si riscrive, da Baricco a Zagableschi, 25 voci di liberazione. Milano, a Piazzale Loreto, a Striscione, pro Mussolini, allarme per le provocazioni neofasciste. L'intervista, il Premier Conte, sbaglia chi non fa festa, su quei valori è rinata l'Italia. E poi l'editoriale, il nostro patto di libertà, firma di Ezio Mauro, continua a pagina 25. E poi ancora il caso, cosa si nasconde dietro la messa in scena di Salvini, che sfida la mafia a Corleone. Taglio basso, TV e politica, se il trono di spade sembra a Palazzo Chigi, a firma di Stefano Massini, a pagina 27. E poi le finali ATP, perché i miei cari maestri portano il tennis a Torino. Aleksandrev Zeverev, 22 anni, che ha vinto le finali ATP 2018. Questa è la prima pagina della Repubblica, la lasciamo così, con un taglio molto largo, riguardo allo zoom, per permettervi di vedere questa bellissima fotografia d'epoca che campeggia oggi nella prima della Repubblica. Andiamo però al suo interno con la speculare di pagina 2 e 3. E allora, festa della liberazione, la memoria, la storia non si riscrive. 25 aprile, Mattarella ai giovani, fu il secondo risorgimento. Non dimenticate quelle idee, il monito del Presidente della Repubblica. La lettura del vignettista della Repubblica LK. E allora andiamocela a godere insieme questa vignetta. A differenza di altri, io mi riconosco nei valori del 25 aprile, quelli della libertà e della democrazia, viene acclamato il protagonista di questa vignetta, e come dissero i partigiani ai nazifascisti repubblichini, avanti insieme per altri 4 anni. Ed è pungente, come sempre, la lettura di LK, il vignettista della Repubblica. Ancora, la testimonianza, lo studente di Milano, Luca, che a 15 anni ha scelto la piazza. Non ero antifascista, ma è ora di svegliarsi. Oggi, in corteo, Luca Stipparo, di 15 anni, che vediamo nella fotografia, un compagno di classe mi ha detto, meglio un fascista che un comunista, non è solo uno svalvolato, sono tanti e mi fanno paura. Pagina 3, Conte, sbaglia a chi non fa festa, mai dare per scontati i valori di chi è morto per la libertà. Così, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, 54 anni, che vediamo in questa fotografia, alcuni estratti della sua intervista. Non rispondo di Salvini, ma di me. Oggi non si celebra la vittoria di una parte dell'Italia sull'altra, ma la rinascita della nazione, le radici del patto costituzionale. Episodi inqualificabili come l'omaggio degli ultra a Mussolini vanno combattuti applicando le leggi, ma anche diffondendo nelle scuole la cultura del rispetto. E andiamo a vedere di cosa sta parlando in particolare Giuseppe Conte. Siamo così a pagina 4 della Repubblica nella sua edizione nazionale. Striscione per Mussolini in piazzale Loreto. Lo sfregio a Milano degli ultrafascisti. Sala, si stanno superando i limiti. Eccoli qui, il blitz tra i negozi. Lo striscione srotolato ieri in corso Buenos Aires, identificati il 22 ultra, 19 della Lazio e 3 dell'Inter. Onore, ha venito Mussolini e gli irriducibili. Viene documentato ciò che è accaduto. Ovviamente la Lazio ieri ha giocato e vinto in Coppa Italia nel ritorno della semifinale contro il Milan, ma ovviamente tutto passa in secondo piano di fronte a questa provocazione. E poi il caso, le contromanifestazioni. Braccia tese e cori lugubri, così la galassia nera ha rialzato la testa. In taglio basso i vari punti per documentare invece quelli che sono moti pro-fascisti a Cosenza, Varese e Roma. E ancora pagina 5. Per me il 25 aprile è la libertà, la democrazia, un ricordo, la speranza, le voci degli intellettuali in questa ampia pagina dedicata ai pensieri di persone colte e dotte che ricordano e sintetizzano che cos'è il 25 aprile in questa pagina 5 molto particolare e sintetica per certi aspetti. Pagina 6. Il duello nella capitale. Siamo su altri temi ovviamente. Siamo sul tema del Salva Roma. La Lega attacca raggi. Lei stralcio a danno dei cittadini. Dopo lo stop nel decreto crescita, la sindaca spera nel Parlamento, interverrà sul debito, spunta un piano del carroccio sui poteri del Campidoglio, ma sulle pagine social di Salvini. Molti sostengono la prima cittadina. E sul tema del Salva Roma si è espresso anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, non nascondendo ovviamente quella che si può definire tranquillamente la sua ira, il servizio di Rossella Strianese. È finita con una lite tra Conte e Salvini e il caos più totale l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto Salva Roma, una delle misure contenute nel decreto crescita, che alleggerisce parzialmente la capitale dal debito monstre di 12 miliardi di euro accumulato durante gli anni, con lo Stato che continuerebbe a pagare gli interessi del debito. Un trattamento di favore per la sindaca Raggi, che proprio non è piaciuto al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio Rai 1, Radio Anch'io, Dema, che ha disegnato forse in maniera troppo autocelebrativa e ottimistica lo Stato della città, ha detto no a figli e figliastri. Se c'è un Salva Roma, devono essere salvati tutti i comuni. Tagli lineari di tutti i governi, ed è per questo che quando si è parlato solo del Salva Roma, noi abbiamo alzato gli scudi, abbiamo detto si deve affrontare il tema di tutti gli enti locali. Quindi almeno su questo è con Salvini, sindaco? Ma diciamo che Salvini sta facendo campagna elettorale e si accorge ora che esistono tutti i comuni, ma con l'autonomia differenziata lui divide ancora di più l'Italia. Il tema è molto chiaro ed è stato affrontato con correttezza nel tavolo istituzionale dalla Vice Ministro Carpelli e dal Sottosegretario Candiani, perché quando uscì il discorso del Salva Roma io dissi guardate, se ancora una volta si interviene solo su una città, noi mettiamo la città di Napoli in sciopero, perché noi in questi otto anni abbiamo dimostrato, senza lo Stato, con ostruzionismi forti di riprenderci da soli. Se il governo finalmente si accorge che esistono anche al sud tante città che si stanno rialzando da sole, con le mani pulite e con onestà, forse questo paese lo rimettiamo in giro. Eccoci in studio con la prima pagina della Repubblica Edizione Napoli, in piazza per il 25 aprile c'è Fico, ma De Luca no. Oggi le celebrazioni dei magistris. Noi andiamo, in certi momenti bisogna schierarsi in taglio alto, il calendario 2019-2020, scuola in Campania si torna in classe l'11 settembre, stavolta nessun maxiponte, i beni culturali, ospedale incurabili, 80 milioni dalla regione per il restauro, di spalla la manifestazione, lezioni di felicità nel maggio dei monumenti, a firma di Stella Cervasio ed ancora in taglio centrale, Comicon, fumetti alla mostra e il man celebra Ugo Pratt, Corto Maltese, eccolo qui il personaggio celebre di Ugo Pratt in uno dei suoi disegni esposti all'archeologico. E ancora, dopo aver visto Corto Maltese, andiamo con il commento di spalla, la storia in fuga dal passato, ritornando sul 25 aprile, sulle celebrazioni e anche le contraddizioni che sta suscitando. Paolo Frascani a pagina 20, di spalla il libro, Michele Serio, prototipo napoletano, scrive Sossio Giametta a pagina 20, anche in questo caso. Taglio basso, la storia, gli anni napoletani di Maradona nel docufilm dell'Oscar Capadia. E ancora, andiamo all'interno della Repubblica Edizione Napoli, speculare di pagina 2 e 3, le celebrazioni per il 25 aprile. Fico e De Magistris, omaggio al 25 aprile, ma De Luca non c'è. Il governatore sceglie l'apertura del festival della storia al Bellini e il sindaco polemizza. In certi momenti bisogna schierarsi. In taglio basso, Santa Maria Capoavetere, magistrati con lampi, rimuovere la tomba di Seifert. Scatta la mobilitazione dopo il caso dei fiori sulla tomba del nazista, il sindaco Mirra. Ora studierò il fascicolo. E ancora, a pagina 3, la storica Gabriella Gribaudi. Troppo odio sui migranti, no all'antifascismo generico. Ancora, taglio basso, il festival culturale via a lezioni di storia di La Terza in musei, teatri e scuole. L'inaugurazione alle 11 al Bellini, in serata lettura dell'Odissea, altri appuntamenti al Genovese e al Matri. Ci spostiamo adesso sulla prima pagina del mattino, nella sua edizione nazionale. L'apertura, governo, ora volano gli insulti. Salvini ai 5 Stelle, sulla mafia sciacquatevi la bocca. Di Maio non siamo paraculi. Conte rinvia la decisione su Siri. Prima gli parlo, ma il sottosegretario non si rimetterà. Dunque si alzano i toni, l'analisi, il rischio che si sgretoli l'unità d'Italia e il rilancio. A firma di Gianfranco Viesti è ancora in taglio alto. Il focus del mattino, il contratto giallo-verde, molti cantieri in corso, pochi obiettivi centrati. E poi l'intervista a Marcella Panucci, il DG Confindustria, il decreto crescita, un cambio di passo. E poi di spalla, follia a Milano, lo sfregio degli ultrafascisti al 25 aprile. in Piazzale, Loreto, alcuni ultra della Lazio hanno inneggiato a Benito Mussolini. Onore a Benito Mussolini, li vediamo anche in questo caso, come nelle pagine della Repubblica, lo striscione, eccolo qui. In taglio alto l'inchiesta a Notre Dame, gli operai e la pista della sigaretta spenta male. E poi la rassegna a Napoli, da Corto Maltese al trono di spade, gli eroi di Comicon. Ed ancora il reportage. Capri, le elezioni per il sindaco nell'isola del Gattopardo. In taglio centrale due casi. Il primo, vandali in azione al San Ferdinando. Edoardo, sfregio a un mito. Ed ancora il rapporto con Ancelotti e tifosi. Insigne, evitiamo i veleni. Taglio di spalla, il dibattito, ma il rischio dittatura è antistorico. Siamo ovviamente di nuovo sui temi del 25 aprile, che più che unire sta dividendo, sembra, a tratti, almeno leggendo dalle prime pagine dei giornali di oggi ne dico, la storia da Casoria alla nuova Lucky Dadis, l'ultima vita di Noemi Letizia, star nel reality TV napoletano. Questa è la prima pagina del mattino edizione nazionale. Noi ci spostiamo adesso sull'edizione Napoli ed ancora in apertura. Andiamo a leggere l'apertura del mattino edizione Napoli. Niente fondi, circoli nel caos, scontro sui tagli allo sport. L'ite al posillipo dopo l'addio di Semeraro, canottieri, gli atleti, non si toccano. Il campione Pino Porzio per gestirli servono manager, l'assessore, pronti al dialogo. In taglio alto, nei sommarietti, il giallo, raid notturno, devastata la redazione del Roma. E poi la storia, Scherillo, i killer di Dario, liberi, per noi altro dolore. Di spalla, le idee, la storia, il fumetto nella città laboratorio, parliamo ovviamente di Comic-Con, e poi il reportage Isola Gattopardo, Capri al voto, con i soliti noti. La città senza regole, ancora dalla prima pagina del mattino edizione Napoli. Via Aniello Falcone, movita a shock con i fumogeni, l'ira dei residenti. Ora basta, il comune intervenga. Vediamo appunto il fumo determinato dall'accensione dei fumogeni in evidenza in questa fotografia scattata da uno dei palazzi adiacenti alla zona. E il taglio centrale, con questa contrapposizione, la bellezza, folla record per Sansevero, e via al maggio della felicità, lo sfregio, vandali al San Ferdinando, oltraggio al teatro di Edoardo. Taglio basso, la showgirl, la sposa Moraci, nel borgo di Marina di Cassano, dove è cresciuta, dopo i Caraibi, Veronica Maia dice sì, in costiera. Dalla prima pagina del mattino edizione Napoli, a quella del mattino edizione Avellino. Andiamo a leggere insieme l'apertura, che è dedicata alla politica. Verso il voto, il candidato del PD resta in silenzio e aspetta la presentazione delle liste per replicare. Sibilia, bordata a Cipriano, il sottosegretario all'attacco sull'inchiesta teatro. Qui c'è un problema come quello di Siri. E ancora, in taglio alto, trova spazio lo sport, il calcio, lupi, ballottaggio in avanti, scalpitano Alfajeme e Pepe. Lavellino, che domenica alle 15, sfida la Torres nella penultima giornata del girone G di Serie D e intanto la gara a Latina l'ultima giornata non sarà vietata ai tifosi. Il basket, si vince in dubbio per Milano, sprint per il recupero. L'ala Lettone è rimasta vittima di una distorsione al ginocchio destro. Il personaggio, Nusco, demita pronto al bis, ma non ha ancora un rivale in taglio centrale. La manifestazione Irpinia in ritardo e allarme universia di Kermes Fantasma. E poi le trattative. Petracca lancia la campagna acquisti nel mirino Ambrosone e La Verde e poi tragedia a Taurano. La vittima è una 74enne di Forino precipita nel Burrone mentre cerca Asparagi. Notizia drammatica che viene raccontata da Vincenzo Castaldo a pagina 27. Poi il Blitz sequestrata una vecchia riscarica il processo corsi di formazione per agenti segreti ma era una truffa di spalla lo strappo ariano la Lega corre da sola in Pol ora c'è Cusano e in taglio basso il piano risparmi comune lotta agli sprechi tagli a telefoni e corrente il commissario Priolo nella fotografia. Poi ancora il personaggio Caposela ha mutinato a Calitri il rifugio dalla peste social ha detto dichiarato l'artista e questa la rivediamo nella sua interezza è la prima pagina del mattino edizione Avellino che salutiamo per spostarci sulla prima del mattino edizione Benevento in apertura il tema è quello dello smog torna l'allarme in città martedì il picco di polveri sottili e ultrasottili con aria molto scadente possibile nuovo stop alle auto negli ultimi due giorni valori alle stelle nelle centraline di via Mustilli e Santa Colomba ancora in taglio alto ospedale non basta il vertice protesta a oltranza la nomina direttore sanitario azienda Sampio ufficializzato l'incarico a Di Santo e poi i beni culturali lezioni di Ortus per la città del futuro la tradizione il fortore sinchina alla Madonna incoronata la festa liberazione il partigiano Caramba apre il corteo e l'iniziativa ancora di spalla strabenedento di corsa contro la violenza sulle donne calcio in taglio centrale giallorossi niente turnover con il Cosenza nell'anticipo di domani dopo la netta vittoria per 3 a 0 al Bente Godi contro l'Ellas Verona con tripletta di Massimo Coda e poi la provincia direttore Essamte l'ora delle scelte per Di Maria il taglio basso della prima pagina del mattino edizione Benevento il blitz marijuana maxicolture in due ville un arresto e poi la sfida da Morcone a Santiago per Lucio e Luigi Cammino in bici la prima del mattino edizione Benevento ora la prima del mattino edizione Caserta dove in apertura c'è l'inchiesta sulla cricca così la definisce il mattino edizione Caserta reggia la truffa dei ticket nel mirino del PM e la convenzione con associazioni visite abusive durante gli eventi nuovi scenari dopo la denuncia di funzionari ministeriali di spalla l'economia e cantire policlinico svolta del governo il decreto firmato dal ministro Di Maio consente la prosecuzione dell'opera in taglio alto lo sport il Doini carica pure la città tutti a sostenere la Juve Caserta e poi l'evento torna pulcinellamente lo show dei talenti di spalla il palazzo e la storia lapide e bombe la memoria tenuta nascosta ed ancora la lotta allo spaccio della droga la sicurezza delle scuole dal Viminale 38 mila euro ancora in taglio centrale i rischi e il caos al Lago Patria chiuso il ponte sulla foce isolati Domiziana e Lidi e poi la pace in consiglio svolta a Marcianise intesa sui dirigenti il PD vota il bilancio patto in extremis sulla revoca degli esterni evitata la fine anticipata della consigliatura ed ancora la scelta per l'ambiente rifiuti e acque nasce l'osservatorio per il monitoraggio e la salute e poi la polemica il sindaco di Santa Maria Capoavetere replica ai partigiani i fiori al boia nazista non sono per lui e questo è uno dei tanti casi collegati al 25 aprile noi però siamo già sulla prima pagina del mattino edizione Salerno e allora l'apertura è relativa al tema della violenza incubo per 800 donne l'emergenza assalto in via Clark l'infermiere ora rispinge le accuse ma resta in carcere è pericoloso aggressioni e minacce in aumento le richieste di aiuto a nove centri antiabusi salernitani in taglio alto la ricorrenza liberazione si caccia si celebra la vittoria della civiltà e poi la svolta di Salerno segnale dell'Italia liberata di spalla l'università loia in campo sogno un ateneo più fruibile e internazionale ed ancora il giallo pastore ucciso una vendetta per i furti di bestiame a seguire la scuola percorsi abilitanti per i prof precari accordo e scontro troppe disparità andiamo a leggere quest'altra news di spalla l'ambiente bandiere blu countdown con due incognite per il cilento e in taglio centrale c'è spazio anche per lo sport la salernitana al volpe ne corri ne proteste nel primo allenamento a porte aperte della stagione granata a porte aperte vince l'indifferenza titola il mattino la storia noi pasta fariani la libertà oltre ogni censura e poi c'è questa drammatica notizia nella prima pagina della mattino edizione Salerno la tragedia lavori alla rondinaia la struttura era esterna alla villa travolto dal montacarichi muore nel suo cantiere la vittima che vediamo in questa fotografia è Nicola Palumbo 54 anni noto imprenditore di Ravello andiamo a capire ciò che è accaduto con il servizio di Giovanni Battista Lanzilli un'altra vittima del lavoro con la provincia di Salerno che si conferma tra i territori dove è maggiore è l'incidenza delle morti bianche Nicola Palumbo imprenditore idile di 54 anni è morto a Ravello nel cantiere di San Cosma dove lavorava con la sua ditta stando ad una prima ricostruzione l'uomo è stato colpito alla testa da un montacarichi che si è improvvisamente staccato dal mezzo che lo trasportava Palumbo è stato centrato alla testa e si è accasciato al suolo sul posto le ambulanze del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Castiglione di Ravello qui i primi tentativi disperati di salvarlo prima che i medici disponessero il trasferimento in eleambulanza a Ruggi d'Aragona di Salerno tutto inutile purtroppo l'uomo è deceduto in volo ed è arrivato già cadavere per le ferite riportate alla testa la morte di Palumbo che gestiva la ditta di famiglia insieme al fratello ha scosso la comunità di Ravello e tutta la costiera amalfitana lascia la compagna e tre figlie intanto il cantiere è stato sequestrato sul posto per i rilievi i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Amalfi i militari hanno anche ascoltato gli operai al lavoro e che erano presenti in quei tragici istanti in cui il montacarichi si è staccato colpendo a morte Nicola Palumbo completiamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani cartacei con la prima pagina delle cronache del direttore Tommaso D'Angelo a Mary Chieffi la prima tessera femminile salernitana dell'Ampi 25 aprile le donne partigiane il racconto di Enzo oggi ottantenne e il fortino degli inglesi a Dragonea museo dello sbarco il presidente Odati attacca dimenticati dal comune e poi Cava Tsunami si chiude il cerchio il PM chiede il processo per l'ex assessore Carleo il 16 maggio udienza preliminare coinvolta la famiglia Zullo tecnici e dirigenti comunali Salerno ingenito si difende non volevo ucciderla parliamo ovviamente del caso di violenza che si è registrato in via Clark e poi Castel San Giorgio il comune deve pagare 400 mila euro per i debiti e ancora l'intervista avvaliante che va all'assalto decide solo De Luca il PD senza coraggio e poi abbiamo appena visto il servizio del collega Lanzilli troppo gravi le profonde lesioni al cranio e le emorragie cerebrali muore schiacciato da un montacarichi lutto a Ravello perde la vita Nicola Palumbo la tragedia nel cantiere per chiudere i richiami in prima pagina con le cronache Capaccio sfida il comune Vozza Sica e Alfieri con l'incognita 5 stelle ecco i nomi dei primi candidati al consiglio dalla parte dedicata ai quotidiani in cartacei passiamo a quella con il web in primo piano con il nostro portale ottopagine.it in evidenza e allora andiamo subito a vedere la home page di ottopagine.it eccola qui in apertura episodio di cronaca a 15 siamo dunque nella sezione Avellino va in cerca di asparagi trovata morta in montagna la donna una 75enne di Forino è stata ritrovata senza vita a 15 ancora nella home di ottopagine.it in carcere arance piene di cocaina arrestata la donna aveva occultato negli agrumi 21 grammi di coca e 16 grammi di hashish come documentato da questo scatto fotografico ancora la home di ottopagine.it siamo nel comune di Musco Demita è pronto a tentare il bis attesa per le liste amministrative i rumors in paese parlano di una nuova candidatura dell'ex leader della DC ed ancora la home di ottopagine.it in taglio basso in primo piano troviamo tante notizie che arrivano dalle varie sezioni provinciali Andrea chef eccellenza miur prendete esempio da questo irpino Andrea Gambone era un ragazzino quando ha capito che l'enogastronomia d'eccellenza era la sua strada ancora la home di ottopagine.it altre news in taglio basso pastore ucciso a fucilate mistero sull'omicidio si indaga l'uomo si ritrova si trova nella frazione Sieti a Giffoni se i casali si trovava quando è stato colpito a morte ancora la home di ottopagine.it altre news in taglio basso droga con il reddito di cittadinanza acquisiti i filmati c'è l'identikit del giovane di Avellino che voleva monetizzare la spesa ancora la home del nostro portale vi ricordiamo l'apertura attualmente relativa a questo episodio che si è verificato a 15 va in cerca di asparagi trovata morta in montagna la donna 75enne di Forino è stata ritrovata senza vita e viene raccontato tutto dalla nostra Paola Iandolo e allora leggiamo brevemente la notizia che ovviamente verrà aggiornata nel corso della giornata si era allontanata questa mattina dalla sua abitazione per andare a cercare gli asparagi ma nel primo pomeriggio i vigili del fuoco con l'aiuto di un elicottero l'hanno ritrovata morta sulle montagne di 15 la signora una 75enne era originaria di Forino la sua scomparsa è stata denunciata dai familiari che non l'hanno vista rientrare per ore di pranzo così sono stati allertati i soccorsi i vigili del fuoco con le squadre speciali hanno avviato le ricerche lungo le montagne circostanti dopo ore di attività l'elicottero dei vigili del fuoco ha trovato l'anziana senza vita ora toccherà al medico stabilire le cause della sua morte e ai carabinieri a avviare le indagini si era allontanata da casa ieri mattina ovviamente una news che è stata inserita nella prima serata di ieri e tutti gli aggiornamenti nel corso della giornata vi invito a rimanere collegati con 8pagine.it rientriamo in studio il touch screen torna alle 11 non mi resta che augurarvi un buon 25 aprile e un buon inizio di giornata con la programmazione di 696 TV MRY un buon 15 piccolo Grazie a tutti.